Eccoci qui, buonasera a tutti, non volevo far passare pure questa giornata senza aggiornarvi ovviamente sulla situazione del Covid, ormai lo facciamo costantemente, dovunque siamo e anche oggi ovviamente dopo aver raccolto tutti i dati ed analizzato tutte le situazioni con la nostra sanità, compreso un sopralluogo che ho fatto con il sindaco Bucci perché oggi è partita alla comenda di Pre il laboratorio mobile per i tamponi antigenici, quelli rapidi nel centro storico di Genova che sapete è una delle aree che è stata più colpita nei giorni scorsi e su cui vogliamo fare un lavoro di tracciamento molto molto accurato come abbiamo fatto nel centro di Spezia quando lì c'era un cluster che oggi per fortuna ancora una volta i dati ci confermano, si sta asciugando. Allora vengo subito ai dati, oggi abbiamo fatto 3597 tamponi, come vedete ormai la media quotidiana è sopra i 3000 quasi sempre, quando occorre ovviamente è una percentuale che ci mette ai vertici in Italia per capacità di tracciamento e analisi. Con questo numero di tamponi abbiamo individuato 111 soggetti positivi e in particolare in ASL 1 sono 7, in ASL 2 sono 8, poi vi dirò qualcosa in riferimento all'ASL 2, ASL 3 sono 63, ASL 4 sono soltanto 1 e ASL 5, come vi dicevo quella in cui erano molte decine nelle settimane scorse, sono soltanto 32 con una pressione, vi anticipo, sugli ospedali dello Spezzino, in particolare sul Covid Hospital di Sanzana che è rimasta invariata ormai da due o tre giorni. Quindi segno che le misure che abbiamo preso e le attività di tracciamento dei nostri straordinari uffici di prevenzione stanno effettivamente dando i propri frutti e quindi su quello poi come sapete nelle prossime ore ragioneremo con il sindaco sulle ordinanze che sono ancora in vigore nella città anche se devo dire c'è di fatto solo l'obbligo di mascherina quindi non un'ordinanza particolarmente gravosa e vessatoria nei confronti dei cittadini. In ASL 3 invece l'altro focolaio che come sapete ci sta in qualche modo facendo lavorare in queste ore sono 63 quindi sono una pressione ancora in linea con quella sostanzialmente dei giorni passati, non aumenta e questo vuol dire che in qualche modo anche lì gli uffici di tracciamento stanno facendo il loro lavoro e ci auguriamo ovviamente che il nuovo Cento Tramponi dove si può presentarsi senza bisogno di appuntamento tra la mattina e le 14 per fare il test antigenico quello che in 15 minuti ti dice se sei positivo o negativo, bene, credo che anche questo come il laboratorio mobile che usiamo nei giorni caldi del cluster Aspezia possa aiutarci. Andiamo alla situazione degli ospedali dove in generale in regione Liguria crescono di 8 i ospedalizzati, arriviamo a quota 173 ma restano sostanzialmente invariate le terapie intensive e questo è segno, l'ha detto più volte durante le nostre conferenze stampa, ne faremo una completa con i nostri sanitari anche domani sia il professor Bassetti sia gli altri responsabili dei reparti interessati, da quelli di emergenza urgenza a quelli di malattie infettive degli altri ospedali i malati che si presentano nei nostri ospedali fortunatamente non sono nelle condizioni di gravità di quelli del picco primaverile e dell'inverno scorso le degenze durano di meno, il trasferimento dalla media intensità di cura alle unità di terapia intensiva sono sempre più rari lo dico e lo dico anche ancora una volta che non ci sono problemi di posti letto nei nostri ospedali né oggi né in prospettiva questo per chi ama in qualche modo lavorare sulle paure della gente cosa che francamente trovo particolarmente disdicevole in particolare cala la pressione sugli ospedali dell'Asla 1, questo per il momento è un buon segno perché è evidentemente un'area di confine con la Francia che è una situazione particolarmente esposta ma per il momento stiamo riuscendo ovviamente a proteggere quel territorio evidentemente in modo efficace in Asla 2 sono 10, 1 in più del giorno prima, cresce invece San Martino 33 pazienti, cresce l'ospedale Galliera di 2 semplicemente perché ovviamente il cluster di Genova, quello di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi ovviamente produce malati che si presentano ai nostri ospedali e vengono opportunamente curati mentre come vi avevo detto su Sarzana e su Spezia resta invariata totalmente la pressione ospedaliere con i 62 pazienti e le 8 terapie intensive che avevamo nei giorni scorsi e questo direi che è un ottimo segno purtroppo dobbiamo rilevare 4 decessi, 4 decessi del 30 di settembre si tratta di una donna di 101 anni, si tratta di un'altra donna di 86 anni, un uomo di 51 e una donna di 95 tutti di Sarzana tranne la signora di 95 anni deceduta all'ospedale di Lavagna e come sempre un abbraccio alle condolianze alla famiglia segno che ovviamente il Covid non è una malattia da tenere sotto gamba anzi come detto prima evidentemente le terapie funzionano di più con questo numero di ospedalizzati in altri tempi avremmo avuto un bilancio ben più grave le sorveglianze attive restano sostanzialmente quelle che avevamo nei giorni scorsi un filo meno sulla ASL 5 e anche sulla ASL 3 perché sono in un totale di 2165 questo è il bilancio della giornata Covid quindi direi sostanzialmente per riassumere su Spezia è un cluster che sta effettivamente rientrando i numeri ce lo dicono costantemente come la pressione sugli ospedali ce lo conferma su Genova un cluster dei vicoli cosiddetto per capirci quando ci parliamo che non è poi esattamente solo lì ma che nasce da lì e che vede lì la maggior parte dei contagiati per i quali abbiamo aperto oggi un'ulteriore unità sanitaria nei vicoli alla commenda di Pre giusto per tamponare, screenare screenare è una brutta parola ma insomma fare lo screening a tutti i soggetti che vivono in quella zona per evidenziare cluster soprattutto come sapete è un cluster che si è sviluppato all'interno di alcune comunità di nazionalità o di provenienza straniere anche molti degli ospedalizzati provengono da quelle comunità che spesso non hanno una stabile residenza o hanno tutto il bagaglio che hanno altri cittadini delle nostre città medico di famiglia conoscenza e capacità di rivolgersi alle nostre asle per questo abbiamo fatto in loco un luogo dove possono rivolgersi per fare lo screening di tutto l'ultima notizia che vi voglio dare è che non è segnata ancora qua e stiamo ancora ovviamente analizzando la situazione poco fa abbiamo individuato un cluster in una residenza per anziani del Savonese è una residenza privata non convenzionata con la regione Liguria ma siamo ovviamente intervenuti immediatamente per capire la situazione vi daremo maggiori notizie domani quello che posso dirvi oggi è che produce circa 23 nuovi positivi 15 ospiti della struttura e 8 persone del personale vi sono praticamente tutti asintomatici vi sono solamente 3 lievi sintomatici quindi non sta producendo nessun ricomero ospedaliero al momento la nostra unità di geriatria covid si occupa del coordinamento con le case di riposo se ne sta già occupando domani vi darò altri dati come vi ho spesso spiegato trattandosi di un cluster chiuso all'interno di una RSA ovviamente non abbiamo preoccupazioni legate al diffondersi del virus non abbiamo preoccupazioni legate neppure nei tracciamenti dei contagi perché sono già stati tutti individuati o si tratta di personale o si tratta di pazienti quindi facilmente isolabile dal punto di vista del virus la guardiamo con grande attenzione perché si tratta come tutte le residenze per anziani di pazienti che possono avere delle loro debolezze e fragilità data l'età e quindi le stiamo monitorando con grande attenzione senza che questo però porti particolare preoccupazione su tutto questo questo direi che è l'ultima notizia in una giornata in cui nonostante il covid gestendo il covid nella città di Genova si è aperto il salone nautico è il primo salone internazionale che si svolge in Italia in Europa e nel Mediterraneo segno della grande vitalità della nostra regione anche della capacità di organizzazione salone protetto controllato con tutti gli screening le procedure codificate per proteggere visitatori e personale che vi lavora anche oggi era affollato di persone in questa prima giornata si sono svolti interessanti incontri dibattiti dal presidente di Confindustria in giù tante persone si stanno godendo bellissime barche del design italiano e ricordiamo che la Liguria è la prima regione per produzione di barche di mega yacht di piccoli yacht di barche di gommoni di mondo della nautica che non sono un giocattolo per ricchi sono posti di lavoro benessere ricchezza futuro di tante tante famiglie della nostra regione del nostro paese siamo i primi produttori al mondo di nautica da di porto quindi era importante dare un segnale a questo salone che si trascina dietro un sacco di iniziative interessanti anche in questo fine settimana in cui riapre il nostro teatro Carlo Felice in cui si celebrano i 50 anni delle regioni con una bellissima mostra che riguarda la nostra storia vi consiglio di visitarla al Palazzo della Borsa insomma una città che vive come abbiamo sempre detto sapendo convivere col covid con la prudenza e l'attenzione che serve questo per quanto riguarda Genova che oggi è la situazione di cui vi ho parlato più a lungo perché è il posto dove vi sono più contagiati mentre Spezia, Savona e Imperia direi che per il momento la situazione è sotto controllo con questi numeri ci auguriamo che anche gli svizzeri possano siamo in contatto anche oggi abbiamo parlato con l'ambasciatore abbiamo sentito il console ovviamente aspettano la valutazione dei dati di questa settimana se caleranno e se la caleranno ancora i primi giorni della prossima non appena possibile ci sarà una rivalutazione ovviamente della posizione della Liguria di questo abbiamo parlato a lungo anche col Ministero delle Estere abbiamo mandato anche a loro i nostri dati che confermano come vi ho spiegato che in tutta la Liguria non vi è un'emergenza Covid siamo saliti sopra la soglia di guardia per la Svizzera per i giorni caldi del cluster di Spezia ci auguriamo che con rientrare nel cluster di Spezia e con la situazione di Genova sotto controllo ovviamente anche gli svizzeri torneranno a riconsiderare le proprie decisioni buona serata a tutti ci sentiamo e ci vediamo domani quando intorno alle 18 faremo il punto ovviamente sui dati e poi con il professor Ansaldi con il dottor Grattarola per quanto riguarda le terapie intensive con il professor Bassetti per quanto riguarda la situazione degli ospedali buona serata a tutti continuiamo a essere prudenti senza paura e godiamoci la nostra splendida Liguria ciao a tutti